ehi la ciurma io sono mazzatess e benvenuti in questo nuovissimo episodio di alien breed impact ho dovuto ricontinuare da qua ho semplicemente alzato il ponteggio rispetto come c'erano lasciati la scorsa volta e no qua mi assalivano da tutti e due i lati e quindi conviene bruciacchiarli per bene come c'erano scusate ma ho dovuto un attimo sistemare due cose allora ero arrivati qui al console di controllo del tribino 1 ok ora il casino sarò tornare indietro senza morirci purtroppo per tornare qua ho dovuto consumare perché il solito registro i due episodi di seguito questo giro non ho potuto registrarli quindi ho dovuto rifarmi tutto il pezzo dal salvataggio del terminale intex fino a qui e nel frattempo scusate che c'è il cellulare che vibra e si sarà sentito tutto e nel frattempo ho perso un sacco di di vite e munizioni per lasciarlo qui adesso siamo in una situazione discretamente critica allora qua ok prima è andato adesso qua teoricamente dovrei entrare qua dentro ottimo e tornare indietro uh avevo perso anche un corpo umano solo da davanti e anche da dietro no? ok dietro non ce ne sembra per ora ok tenendo duro che la quale situazione si fa abbastanza critica ma noi davvero avevamo entrato qua dentro ah da questo vetro qua ok ok l'hai bloccato quindi dobbiamo per forza passare di qua ma il fuoco ha bloccato l'altra ah devo attivare il sistema degli analogi nuri quindi qua dentro questo ok ero andato dalla prima parte giusta senza saperlo e perchè certe volte bisogna attivare delle cose e non sempre te lo dice subito ecco devi arrivare in faccia e dice ah guarda c'è del fuoco qua c'è da passare ah qua c'era la zona tutta incasinata dove siamo passati prima per andare al terminale Intex bisognerebbe passare di là ma è un gran bel casino c'è morto quello non ho capito come ma c'è morto il primo che era uscito qua boh era già in fiamme forse è spawnato troppo presto quando ancora il fuoco non era tutto istinto 500 crediti ma ad andare al di là credo si ovvio aspetta ci sono delle qua ok no uno ancora vivo oddio ho il caricatore pieno ma porca miseria quindi andiamo a sparare con questo adesso così da poter tornare indietro e prendere quelle munizioni visto che abbiamo così poche munizioni non ci conviene quella che botta raghi allora la non vedo se c'è una pianta o cosa no c'è un corpo umano ah questa non l'ho uccisa ok ora dovremmo avere abbastanza spazio davanti alla no ci manca ancora un colpo questo salvataggio automatico non mi è piaciuto per niente ok ok mo possiamo andare a prendercelo per tre munizioni ma porca miseria credo fosse almeno un caricatore pieno allora pay attention perchè qui è una questione di tension quasi quasi scusate ma no qua ho sbagliato il pulsante quasi quasi uso kit medico grande perchè di quelli comunque ne abbiamo potresto usare sempre medikit piccoli ok da che parte bisogna passare di qua sembra crediti la situazione è discretamente critica perchè abbiamo poco po' di tutto stiamo finendo anche i medikit eh due con un colpo racconta una registrazione sono curioso di sentire... annotazioni annotazioni signore del muschio no 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 boh non so chissà qual'era voglio prima vedere se per caso troviamo qualcosa di interessante perchè... scusate solo ripeto ma siamo proprio in una situazione un po' incasinata quel terminale probabilmente dovrò utilizzarlo ci sarà qualcosa che non va a questa porta? dov'è città... controllo che si chiudono non va a che fare 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 ma come seých attraversiamo non va a che fare mi va a che fare che se è lei mi va a che fare non va a che fare decisamente brutta ok mal funzionamento del sistema quindi dobbiamo usare quel terminale volete vedere? infatti CVD ok e questo è solo per la seconda turbina ce ne servono 4 e ancora nessun terminal intex tra l'altro altro uoco in giro sembra di no ma c'è qualcuno qua dietro la porta bloccato per fortuna ma quello là dietro è un terminal intex bloccato? sembra sembra così oddio no sono queste parti labirintiche non mi piacciono questo non è funzionante mi sembrano dei crediti quelli adesso c'è una pariera di sicuro qualcuno dal dietro se ti fermi ti sparo anche un bel colpo in faccia ma tra l'altro di là non c'è modo di passare no? no oddio ah ma era aperto c'era già il coso giù ossa antinomine ma vaffan brodo con il cannone in quelle situazioni là è davvero troppo incasinato perché spara 8 colpi e poi si ferma no devo cambiare arma assolutamente assolutamente da dove riprendiamo? da qua allora andiamo a riprendere tutta sta roba che ci siamo persi per strada un terminal intex non farebbe male qua qua se non ricordo male ne usciva uno prendo il corpo umano e mi esplodo davanti ecco infatti qua non c'è niente dobbiamo passare di su forse c'era qualche corpo umano qua in mezzo però là dietro si e laggiù avrei dovuto usare o il cannone d'assalto cioè il fucile d'assalto oppure avrei dovuto usare il lanciafiamme perché con il cannone è davvero un casino troppo troppo incasinato anche qua non so se va bene il cannone perché ce ne sono un sacco eeeh nah apriamo sempre quello sbagliato andiamo di lanciafiamme quella me l'avevo dimenticata per esempio che c'era registrazione non è una notazione è una registrazione come la aspetta però prima secchiamo questo tizio qua che c'è qua sopra voglio sono curioso di capire come non lo so quella me l'avevo dimenticata quella anche me l'avevo persa è subito per andare in qua casini usciamo 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 todei todeus porco no è bloccato è bloccato è bloccato è bloccato è bloccato è bloccato speriamo di farcela sto giro allora switchiamo un attimo sulla pistola perché le cose qua sulle larve effettivamente mi conviene ecco beh non ci ho preso neanche troppi danni alla fin fine cambia no ok allora qua sono no mi conviene passare sul fucile d'assalto ok questo è andato adesso andiamo qua a recuperare le altre munizioni e poi ci lanciamo sul ponte possibilmente abbiamo un kit medico piccolo se no l'altro abbiamo trovato io ora direi che dobbiamo andare qua ora non so se ci sono ancora sugli altri lati possiamo controllare mentre passiamo vediamo ce ne erano ancora forse mi conviene effettivamente tenere così allora qua metto il grande perché perché è è è è è è è è Prima di tirarlo vorrei vedere se per caso non mi salta fuori qualcosa Chieva magnetica, ottimo Arriverà gente di sicura, sento già arrivare Oddio Ok pensavo peggio Però abbiamo praticamente finito di nuovo l'emunizione del cannone La seconda turbina non si avvia quindi dobbiamo andare in là manualmente Posso ritrocedere qua? Anzi Naggia che casino, naggia che casino Mannaggia dei pesciotti Ok Niente più munizioni in pratica però E non erano il terminal index comunque Come si sperava all'inizio Ma ci sarà un terminal index da ste parti, dai blocks Munizioni Kit medico per fortuna Ma niente di più Quello di cui abbiamo bisogno è un terminal index perché è tantissimo che sto registrando Da dove Quasi finito di nuovo l'emunizione Quasi finito di nuovo Niente nessun terminal index da nessuna parte Porca la miseria Niente più munizioni ovviamente Occio Dovrei prenderlo di là però è meglio passare di qua quindi Occio non l'avevo vista La situazione si fa sempre più incasinata Perché qua E' lui? E' un terminal index Oh si 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 Salviamo subito Salviamo subito e chiudiamo Salviamo e chiudiamo Salviamo e chiudiamo Salviamo e chiudiamo Oh ragazzi Mannaggia Ehm no prima vediamo se c'è qualcosa da comprare Allora D'assalto si Oh abbiamo 5000 crediti Lancia fiamme anche a sto punto Due kit medici Kit medici piccoli e due grandi Si per forza E queste le vendo Tanto non le uso mai Possiamo comprare altri peiettini? No Solo per il fucile laser Ma non lo uso molto Quindi Vado così Ci sono altri proiettili per il cannone Effettivamente qua Però non ci stanno più nel nostro inventario Quindi gg così per ora Allora salviamo i progressi Su Questo 13 marzo Ok Quindi Ciurma Io vi ringrazio per la visione Vi invito a lasciare un mi piace E iscrivetevi al canale Se per caso non l'aveste già fatto Ci vediamo nel prossimo episodio Buona giornata a tutti Ciao Ciao